C'è una città in Puglia, dove la storia si dà appuntamento da millenni, dove la natura è sacra come un santuario, dove la spiritualità riempie il cuore e gli occhi, e dove il cibo ha ancora il sapore delle cose vere. Questa città è Monte Sant'Angelo, la città dei due siti UNESCO. Ha un weekend da te.